Al termine della rassegna le squadriglie hanno spiccato il volo compiendo brillantissime evoluzioni. Si inizia la dura battaglia della Marmarica, gli inglesi vi hanno concentrato da 5 mesi in genti forti, italiani e tedeschi vi compiono prodigi di valore, i nostri ricognitori scordati da caccia vanno a perlostrare il territorio.